è un quattro questo a me è un quattro questo ma questo è un quattro non c'è neanche l'errore oh ma io vi faccio un macello uno scandalo è uno sconcio guardi questo questo non è un locale questo è un casino una casa chiusa aprite le finestre aria aria e poi un uomo la sera non un po più manco usci solo questa me sta a dar pilota ma non mi sono seduto qui ma che c'è qua che succede angelo meno male che sei venuto è sempre tu questo locale e beh staccia accorto tesoro mio questo non è un conto è un mutuo per un bellino 400 mila lire una coppettina di champagne fatto ai castelli romani lascia stare ci penso io venga con me su facci cacciare su andiamo in ufficio l'ho sempre riconosciuto dal lessico che vuoi stare solo con me a quattro occhi ma chi te conosce ma che è stato io ah come fredda stasera dopo tutto quello che c'è stato fra noi angelina ah ma che c'è stato da noi a stronzo prego come hai detto scusi che sei uno stronzo e se pure frocio ma va ah sei brava a parole eh mi chiama frocio solo quando gli fa comodo a lui ma falla la vita e qui te volevo o vedi polizia per costo e ortraggio a pubblico ufficiale non vale però non vale vale ah ma che è così permetti che te presento una collega mia laura vieni vieni un po' metti i braccianetti al signore che adesso andiamo in discoteca da noi brava mi sei piaciuta oh parevi una vera che strano stasera ho fatto il pieno andiamo vieni caro te sei inguagliato caro angelo l'americano vieni eh vieni su mi discusate prima ero nervoso amica mi vorrei restare davvero no io stasera c'ho un appuntamento a un portante mi sa che lo devi rimandare mi mette un sacco dei sordi eh si bordo e perché te ne frega ce n'hai tanti ma non ce lo sanno tutti che sovano come no ma quanto vuoi bene te lasciarmi libero quanto metteresti dieci milioni dieci milioni si quartullo segna va segna guarda sta cattone ma per chi c'hai preso oltre a percosse e ingiuria a pubblico ufficiale qui c'è un bel tentativo di corruzione fresco fresco sta tezzetta un famone guarda che mica mi metti paura mi chiami il superiore ma non c'è un superiore qua voglio telefonare al mio avvocato si a quest'ora te possiamo chiamare solo per i mason il signore questa notte si trattiene da noi una singola compagno Laura pensaci tu me saluto generalità Bertoli Angelo grazie a tutti Grazie a tutti.